Allora, siccome mi dicevi che non ti va che su YouTube ci siano 66 video, ne aggiungiamo un altro, così diventano un 67, vero micio? Ecco, vuol dire che... Ne mettiamo un altro, è giusto rispettare i desideri del gatto, vero? E rispettiamo il desiderio del gatto. Cosa faccio lì? Ti vedi? Volevi guardarti? Ecco, questa è una fotocamera. Piace? Non te ne frega un bel niente. Venga a me.